Tuttavia, è proprio questa brevità concisa essere talvolta considerata il limite intrinseco dello haiku, in quanto difficilmente ciò che è grande riesce a trovare spazio in ciò che è piccolo. Ma tale assunto, pure ipotizzabile a seconda dei casi, viene del tutto azzerato nei componimenti di Yotsuba, dove lo haiku non è più ciò che intende esprimere, quanto ciò che intende indicare, proprio come nel celebre insegnamento zen del dito che indica la luna, dunque, lo haiku si fa dito, e nel leggere i singoli componimenti c'è chi scorgerà la luna di volta in volta indicata e chi, per forza di cose, si fermerà a osservare il dito. Dall'introduzione di Diego Martina